Desideri un sorriso smagliante e abbagliante per una serata particolare, per un evento speciale, per il tuo matrimonio? Studio dentistico Dottoressa Croce Margherita, Corso Garibaldi 15, Melito Portosalvo. La Dottoressa Croce ti invita a provare la nuova tecnologia spiancante con lampada LED e gel. In 30 minuti, al fantastico prezzo di 50 euro, otterrai un risultato straordinario. Presso lo studio, inoltre, si eseguono con alta professionalità, attenzione e cura verso il paziente tutte le prestazioni riguardanti il settore odontoiatrico, incluse pedodonzia, ortodonzia infantile per ragazzi adulti, protesi fissa immobile per implantologia, centro di eccellenza Isomed. Si effettuano preventivi personalizzati. Studio dentistico Dottoressa Croce Margherita, Corso Garibaldi 15, Melito Portosalvo. Info 0965 73 21 69, per un sorriso che ti cambierà la vita.